In una ciotola puliamo un mezzo avocado e lo schiacciamo con una forchetta fino a ridurlo in poltiglia. Quindi a questo punto mettiamo un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di olio con dell'aglio tritato finemente, una spolverata di origano e un filo d'olio. Aggiungete del limone se vi gradisce. E questo è fatto.